Tragedia a San Cosmo albanese, paese Erbrecht del Cosentino. Un giovane è morto nella serata di ieri a causa di una caduta da un carro allegorico. In particolare, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, di rientro da un altro intervento, è stata fermata da alcuni automobilisti lungo la strada provinciale 183 per la presenza di un corpo riverso a terra. Subito sono stati chiamati i soccorsi, ma per la vittima non c'era più niente da fare. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo si trovava dunque su un carro allegorico trainato da un trattore, che dopo una sfilata di carnevale nella frazione San Giacomo d'Acri stava andando a San Cosmo albanese per un'altra sfilata. Lungo la strada il giovane, per cause in corso di accertamento, avrebbe battuto la testa cadendo dal mezzo. Il conducente del trattore non si sarebbe accorto di nulla e ha proseguito la marcia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, coordinati dalla Compagnia di San Marco Argentano, che stanno continuando le indagini per accertare l'esatta causa dell'incidente. La procura di Castrovillari ha disposto l'autopsia su 17enne.